Era stato annunciato nei giorni scorsi e oggi, dopo 5 mesi dalla frana, la via per Sanfermo ha riaperto al traffico in entrambi i sensi di marcia. A inizio settimana sono terminati gli ultimi collaudi e da questa mattina l'arteria che collega a Como a Sanfermo è di nuovo percorribile. Lo scorso 18 dicembre si era staccata una frana da un terreno privato che ha determinato la chiusura e la necessaria messa in sicurezza del versante. A febbraio la proprietà, attraverso i propri legali, aveva spiegato chi avrebbe eseguito i lavori a propria cura e spese. Quindi è partito il cantiere che dopo poco, a metà marzo, si è dovuto fermare per l'emergenza coronavirus poiché l'impresa che stava eseguendo le operazioni aveva evidenziato una serie di difficoltà per poter proseguire, tra cui l'approvvigionamento dei materiali. La ripresa delle attività risale allo scorso 21 aprile. Dopo le ultime operazioni e i necessari collaudi, oggi finalmente le auto sono tornate a percorrere la strada in entrambe le direzioni.